Oggi Pandora TV fa l'unica intervista tra virgolette elettorale, nel senso che non ne farò altre di qui al voto, però intervisto un candidato che è già deputato, che concorre di nuovo per il Movimento 5 Stelle, perché ho scelto lui? Semplicemente perché so che con lui si può discutere di molte cose con cui con molti altri non saprei neanche da dove cominciare, o meglio se io cominciassi una discussione non saprei che risposte mi vengono, quindi siccome si tratta di una persona competente che conosco, che immagino abbia delle idee sulle questioni che interessano me personalmente e Pandora TV, quindi voglio fare una conversazione con lui per capire se verrà eletto, che cosa farà sulle questioni che toccheremo e intanto ci facciamo raccontare da Dario Tamburrano, che cosa ha fatto… Ciao Giulietto! Ciao Giulietto! Ciao! Siccome ho partecipato alla tua campagna elettorale, almeno in un'occasione, ti ricordi? Quindi ci ritroviamo dopo 5 anni per fare un po' il bilancio del suo lavoro, sui temi di cui si è occupato e poi per affrontare una serie di questioni che interessano a noi e a Pandora. Cominciamo col dire che cosa hai fatto in questi 5 anni, quali sono le cose di cui tu ti puoi vantare come rappresentanti del popolo in Europa? Dimmi tu! Beh, la cosa più… credo più importante, che a prescindere da tutto mi lascia sicuramente soddisfatto, o comunque andrà, è il fatto di essere riuscito a portare nella legislazione europea i diritti dei produttori consumatori di energia rinnovabile e delle comunità dell'energia. Quando è iniziato il processo legislativo, pre-legislativo nel 2015, per la revisione di tutte le norme che riguardano l'assetto energetico dell'Unione Europea, mi sono reso conto che nei documenti proposti della Commissione si parlava di prosumer spesso, ma non vi era una definizione di questa entità. I prosumer, i produttori consumatori di energia in questo caso e dato che se non esiste una definizione giuridica di un soggetto o di più soggetti all'interno della legislazione, in realtà queste parole significano niente, quindi nel 2015 nel New Deal for European Consumer ho proposto una definizione di prosumer di comunità dell'energia pensando inizialmente che rimanesse più una provocazione, perché chiaramente venendo dal basso, non essendo, non avendo particolari legami a livello politico, noi eravamo un piccolo gruppo appena arrivato al Parlamento Europeo e invece con mia grande sorpresa pian piano sono riuscito a cucolare intorno a questa proposta di definizione la maggioranza dell'Europarlamento. Che cosa significa normare i diritti dei produttori consumatori di energia e delle comunità dell'energia? Significa poter dare a ogni cittadino europeo la possibilità di autoprodurre, autoconsumare, stoccare, quindi magazzinare in batterie e scambiarsi tra pari l'energia rinnovabile autoprodotta. E dare dei diritti, delle definizioni di comunità dell'energia significa dare la possibilità a cittadini, pubbliche amministrazioni e piccole e medie imprese di mettersi insieme per creare delle piccole centrali locali, campi fotovoltaici o di sistemi di produzione di energia rinnovabile usando l'energia eolica che sono di proprietà della comunità. Questo quali conseguenze ha? Significa sottrarsi al gioco delle grandi compagnie energetiche, significa permettere al cittadino di entrare a pieno titolo nel mercato elettrico, significa svincolarsi da quelle che sono le oscillazioni della bolletta, ai grandi giochi geopolitici che sono legati al rifornimento energetico. Quanta gente è implicata in questa operazione? Intendo dire, sul piano europeo, che massa di elettori o di cittadini siete stati in grado fino ad ora di far convergere attorno a questo tema? Diciamo che in alcuni paesi il discorso della produzione e autoconsumo dell'energia è già normato, è già possibile in maniera abbastanza libera, esistono comunità dell'energia in tutta Europa, ma non esisteva una normativa che andasse a rendere omogenei questi diritti nei 28 paesi membri. Vi sono degli studi fatti da ONG europee, tra cui Rescop e Greenpeace, che parlano di centinaia di milioni di persone, di individui che possono essere coinvolti in questo processo di democratizzazione della produzione energetica e si può arrivare fino anche a 40% dell'energia elettrica prodotta dal basso, dalle comunità di energia e dai singoli. Quello che abbiamo inserito nella normativa è una piccola rivoluzione perché in molti paesi, tra cui l'Italia, attualmente anche chi installa un pannello fotovoltaico, un singolo, paga gli oneri di trasporto e gli oneri di rete, ovvero anche per la parte di energia che autoproduce e autoconsuma sul posto e quindi utilizza il cavo elettrico di casa propria, ci paga sopra una sorta di tassa, che sono gli oneri che servono a mantenere la rete di trasporto dell'energia elettrica, ma si paga un onere per un servizio del quale non si usufruisce, perché la parte autoconsumata rimane all'interno delle proprie abitazioni. Noi siamo riusciti a inserire a livello dell'Unione Europea la possibilità da determinate condizioni, tra cui per esempio un massimo di 30 kW di potenza installata, che sono comunque una cifra abbastanza cospicua, la possibilità di non pagare gli oneri di rete. Che cosa significa questo in pratica? Significa facilitare e spingere il passaggio all'utilizzo dell'energia rinnovabile da molte più persone, perché si tratta di renderla più economica. Quindi c'è un vantaggio per i cittadini nel entrare a pieno titolo in quello che è il processo di transizione energetica. Il processo di transizione energetica verso le rinnovabili è un processo complesso, difficile, a mio modo di vedere, obbligatorio per tutto ciò che riguarda il problema del cambiamento climatico e quindi rendere più economiche le bollette o annullare le bollette di coloro che passano l'energia rinnovabile significa dare la possibilità di accelerare questo processo e soprattutto di democratizzarlo. Incentivi, incentivi all'introduzione di questi sistemi, perché magari molti vorrebbero, io per esempio vorrei, ma se non so come funziona, se non ho un aiuto pubblico non lo farò. Gli incentivi sono ancora possibili, quelli sono competenza degli Stati membri, ma il processo di produzione di scala del fotovoltaico ha portato ad un abbassamento totale dei costi, per cui gli incentivi possono anche non essere più necessari, perché si è arrivata alla cosiddetta pari di grid, ovvero le energie rinnovabili al netto degli incentivi sono competitive in termini di costi rispetto alle energie fossili. Quindi gli incentivi hanno già ora, già da tempo, soprattutto se si eliminassero completamente gli incentivi alle energie fossili. Per esempio in Italia gli incentivi alle energie fossili in maniera diretta e indiretta siamo a circa 16-18 miliardi di Euro l'anno, quindi si parla molto degli incentivi rinnovabili, quando poi comunque noi continuiamo ad incentivare alcune forme di energia fossile. Quello che noi abbiamo fatto a livello di processi legislativi è di chiedere il phase-out, la cancellazione progressiva degli incentivi alle energie fossili in tutte le loro forme. E noi in Italia la diamo? Gli incentivi ci sono in Italia? A quanto ammontano a occhio e croce? Gli incentivi alle energie fossili? Circa 16 miliardi, secondo i dati di un paio di anni fa. Forse recentemente sono anche cresciuti, comunque il dato certo parla di 16 miliardi, sono fonti ufficiali. Molti, moltissimi. Sono moltissimi, quindi stiamo parlando di cifre ingenti per andare a incentivare delle forme di energia che non solo portano comunque a emissioni clima alteranti, portano comunque a emissioni di sostanze evocive per l'ambiente e una cosa che va considerata e della quale si parla assai poco è la dipendenza geopolitica. E lì torniamo a un principio fondamentale, una nazione o comunque un continente o un insieme di stati come l'Unione Europea non avrà mai nessun tipo di libertà geopolitica nelle proprie decisioni interne quando dipenderà dall'estero per l'approvvigionamento di energia che è fondamentale per i processi produttivi anche per la normale vita di ogni individuo e se dipende anche dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime. Quindi c'è un discorso geopolitico da considerare che va al di là ed è altrettanto importante del discorso ambientale, sanitario e clima alterante. Bene, adesso qui faccio un salto, usciamo inizialmente da questa questione che è specialistica ma molto importante con due domande. La prima è quella appunto, chi si occupa delle valutazioni geopolitiche? Perché di questa discussione sappiamo soltanto alcune cose diciamo di carattere propagandistico, bisogna eliminare la dipendenza dalla Russia, bisogna diversificare eccetera eccetera, però non si capisce chi sono gli interessi in gioco e non si capisce soprattutto che posizione ha assunto l'Italia fino ad ora su questo punto, non si capisce. Noi facciamo per esempio le sanzioni alla Russia, punto chiave secondo me, adesso è in corso tutto un processo per cui gli americani che stanno producendo dallo shale gas, una enorme quantità di gas dicono che ci vogliono offrire il loro gas in cambio di quello russo, quindi tutta la partita strategica intorno all'Ucraina, che facciamo dei gasdotti russi che passano attraverso l'Ucraina, richiudiamo così, strozziamo la Russia e la costringiamo a dirottare il suo gas sulla Cina, cioè sono tutte questioni strategiche. In Europa se ne ha discusso o non se ne ha discusso? Bene, in Europa all'inizio della legislatura c'è stata una discussione accesissima dove c'era un atteggiamento di russofobia estremamente accentuato e si è parlato per almeno i primi due anni della legislatura in maniera pressante di rifornimenti di shale gas da parte degli Stati Uniti, cosa che dal punto di vista geologico ed economico è un'assuridità, perché lo shale gas ha comunque un costo elevato. Per trasportarlo significa liquefarlo, metterlo su delle nati gasiere, poi bisogna vedere chi fornisce queste nati gasiere, trasportarlo e ricassificarlo. E questo dal punto di vista del bilancio termodinamico diventa un'assurdità, perché per liquefare il gas e per ricassificarlo comunque si consuma energia. Il risultato è che lo shale gas avrebbe comunque un costo molto superiore al gas russo. E poi c'è un'altra questione che riguarda la creazione di nuovi gasdotti. Noi allontanandoci dalle forniture russe siamo costretti non solo a stringere rapporti con altri Stati sulla quale tutela dei diritti umani ci sono sei dubbi, insomma parliamo di diversi Stati del Medio Oriente, ma nel momento in cui si costruiscono nuovi gasdotti si perpetua quella che è un'altra dipendenza geopolitica da altri, si va incontro a quello che è il fenomeno dell'occhino infrastrutturale. Nel momento in cui si mette in piedi un'infrastruttura, chi investe in questa infrastruttura deve avere un tempo di ritorno economico, quindi si è costretti a mantenere un determinato tipo di dipendenza geopolitica, si è costretti a mantenere per decenni e decenni un tipo di approfiggeramento fossile, magari basato sul gas, che è sicuramente un tipo di combustibile fossile meno inquinante e meno climalterante di altri come il carbone e il petrolio, ma comunque è un combustibile sempre di origine fossile, quindi è una combustione più pulita, ma comunque emette CO2 e soprattutto quello che raramente viene detto, vi sono delle grandi perdite di gas lungo i gasdotti, e il gas non combusto ha una capacità climalterante che supera di oltre 30 volte quella della CO2. L'errore dell'Europa è stato quello di non mantenere invece buoni rapporti con la Russia, perché noi abbiamo già dei gasdotti che non dovevano essere costruiti da zero, a mio avviso la Russia nel corso degli anni ha mantenuto comunque le sopremesse di fornitura, nonostante i vari problemi del passaggio sul territorio ucraino e avrebbe dato la possibilità comunque di mantenere una stabilità dei rifornimenti e la Russia tra l'altro ha grandi giacimenti di gas, mentre l'Europa lavorava sul processo di transizione verso le energie rinnovabili. Invece andare a creare nuove forniture e nuovi gasdotti o nuovi modelli come le navi gasiere, i gasificatori, ci porta poi a permanere in questa sorta di schiavitù energetica. Bene, ho capito, grazie per questa chiarificazione, però c'è una domanda più estesa ancora. Vorrei sapere il tuo parere su che cosa è il cosiddetto sviluppo sostenibile. Tu credi allo sviluppo sostenibile? Allora, bisogna ragionare sulle parole, perché ogni parola può essere trasformata, perché green o l'etichetta eco viene applicata anche ai pneumatici. È quello che ti faccio la domanda. Diciamo, le parole sono importanti, ma bisogna sempre capire cosa c'è dietro le parole. Sull'ecosostenibilità noi dobbiamo tornare a concentrarci politicamente su quelli che sono gli asset fondamentali fisici per il funzionamento di una nazione di un continente come l'Unione Europea. L'Unione Europea è nata molti decenni fa, nel secolo scorso ormai, come comunità del carbone e dell'acciaio. Non è un caso che degli Stati si sono messi insieme basandosi sul commercio di energia da una parte, come il carbone che era una delle fonti energetiche principali del secolo scorso, e sull'acciaio che era la forma di materia, il materiale più importante per il modello di industria che avevamo nel secolo scorso. Non si può parlare di sostenibilità e tanto meno di sovranità se invece noi mettiamo un modello, e mettiamo in piedi un modello politico e produttivo che tenga di nuovo in considerazione i flussi di materia di energia che vanno a alimentare i processi produttivi e la vita economica di un continente. Oggi il progresso tecnologico permette una transizione alle energie rinnovabili, sicuramente c'è ancora molto da fare, ma bisogna puntare in maniera diretta verso quell'approvvigionamento energetico che è di tipo locale e che per sonatura può essere anche democratico, perché può essere prodotto in maniera diffusa, e ragionare sull'approvvigionamento di materie prime mettendo in campo i principi dell'economia circolare, ovvero mentre l'economia lineare porta a una dipendenza geopolitica, oltre che a uno sfruttamento dei territori, perché importa materie prime dall'estero, il che significa anche sottrarre materie prime alle popolazioni che ne sono legittime proprietarie, spesso non ripagandole in maniera adeguata, significa trasportare le materie, trasformarle con un consumo di energia, farle entrare nei cicli del consumo e obsolescenza programmatica e discarica. Questo è in poche parole il processo dell'economia lineare. Mettere in piedi il modello dell'economia circolare significa cercare per quanto è possibile, tendenzialmente il più possibile, fino a un massimo di indipendenza, riutilizzare tutte le materie prime che sono già sui nostri territori per stroncare questo modello di dipendenza dall'estero e per mettere in piedi un'economia che sia realmente circolare, alimentata da energie rinnovabili e che ricicli completamente la materia. Quindi si tratta di simulare quelli che sono già i principi del funzionamento dei meccanismi naturali. La natura e la vita nel pianeta Terra vengono alimentate fondamentalmente da energie rinnovabili, che è la luce del sole, anche l'energia olica è una forma di energia solare perché è il riscaldamento dato comunque dall'energia elettromagnetica del sole che poi causa i venti e in natura non esistono rifiuti. Noi dobbiamo simulare il più possibile questi nuovi principi naturali. Allora lì si parla di un'ecosostenibilità che non sia di facciata, che non sia un grid washing e si parla di mettere... è un sistema nuovo che è in grado di affrontare le sfide del secolo nel quale siamo appena entrati. Le idee che tu hai ora adesso esposto sono diffuse nel mondo, non solo in Europa, o no? Perché mi pare che siano pochissimi quelli che danno al discorso del sviluppo sostenibile questa significazione che tu hai dato. Moltissimi non sanno neanche di chi si tratta. Questo credo che sia uno dei compiti della politica, di riuscire non solo a mettere in pratica a livello normativo determinate visioni, determinate idee, ma anche quello di fare informazione e di diffondere determinati concetti che una volta spiegati sono anche semplici. A me è capitato di andare nelle scuole medie e raccontare queste cose ai bambini di 11-13 anni. Il bambino queste cose le capisce immediatamente. Gli adulti hanno delle sovrastrutture tali per cui, o dei preconcetti per cui tendono comunque a negare o a impedire a se stessi di vedere le cose sotto un'altra chiave, perché si tratterebbe di negare anche quello in cui si è creduto magari per tutta la vita. Ecco, ti faccio anche qui una digressione. Io ho scritto anche la prefazione di un libro che è uscito l'anno scorso, di un nostro illustre secondo me, illustrissimo, ecofisico, si chiama Luigi Sartorio, che ha scritto La mappa del denaro, che è un libro che io ritengo assolutamente rivoluzionario, in linea con le cose che dici tu, però lui ha dato una formulazione che io ritengo molto importante. Lui ha detto noi siamo all'inizio della fine del transiente del motore termico nella storia dell'evoluzione dell'uomo, perché lui giustamente, se lo abbali del ragionamento che hai fatto anche tu, c'è un punto in cui questo transiente finirà. Noi siamo, non si sa quanto in là, ma siamo nell'ordine di idee che questo transiente finirà per ragioni fisiche, perché le risorse energetiche, per esempio, non saranno più sufficienti, non saranno più adeguatamente economiche per utilizzarle. Quindi lui dice che bisogna prepararsi a una idea di una nuova società che è completamente diversa, ma per fare questo ci vorrà del tempo. Tu dici che è un compito della politica, sì, la politica però non lo sta facendo, salvo qualche rara eccezione, non si vede nel dibattito italiano, per esempio. Chi parla di queste questioni? Nessuno. Nessuno guarda più in là di uno scalino e invece qui siamo di fronte a uno scalino epocale, oltre il quale l'umanità non sarà più la stessa di prima. Se non ci prepariamo, come potranno le nuove generazioni affrontare questo compito? Anzi, non le nuove generazioni, la nuova generazione. Noi e i nostri figli sul limitare dei nostri nipoti, non di più. Questa è la sfida del secolo. Riuscire a comunicare a quante più persone possibile quali sono le reali priorità. Perché la politica attualmente in Italia, ma non solo in Italia, è fatta di attenzione su questioni che sono transitorie. La notizia del giorno, la notizia del mese, o su presi di posizione che guardano alle elezioni imminenti. Non esiste più una visione… sono morte le ideologie. Le ideologie davano una prospettiva anche di lungo periodo. Con la morte delle vecchie ideologie, delle grandi correnti di pensiero del Novecento, non è nata una o più correnti di pensiero che guardassero in maniera intelligente a programmare la società dei prossimi dieci, venti, trent'anni. Bene, ti interroppo qui perché tu hai detto far giungere al più ampio numero possibile di persone, almeno i rudimenti di questo discorso, che sono comprensibili ma sono non facili da assorbire. Ma allora tu poni il problema che per esempio noi ci poniamo, con Pandora TV siamo nati per questo, l'informazione è cruciale. E quindi il tema della riforma dei sistemi di comunicazione, riforma, rivoluzione, dei sistemi di comunicazione è assolutamente indispensabile. Anche qui qual è il livello del dibattito? Noi prendiamo quello che ci viene, milioni di persone prendono quello che gli arriva in testa senza avere nessuna possibilità di difendersi. La parola giusta è questo, difendersi. Quindi voglio capire tu cosa pensi del futuro di questo dibattito, perché bisogna dare una svolta, se no andremo a picco, come stiamo andando a picco nel livello della coscienza, perfino della alfabetizzazione elementare dell'opinione pubblica cosiddetta. Questo è un punto che mi interesserebbe sapere. Questa è sicuramente una questione cruciale perché di fronte al discorso di mettere in campo determinate scelte politiche, se queste scelte non hanno il sostegno della popolazione e non vanno lontano e per avere il sostegno bisogna fare corretta informazione. La situazione è molto grave. Io ho cominciato a navigare in rete quando c'erano i primi internet caffè, ormai più di vent'anni fa. La rete è stata una grande speranza di democratizzazione dell'informazione ed è sicuramente tuttora un mezzo importante, ma nello stesso tempo quello che ho osservato nel corso di questi vent'anni è che la rete che era una grande speranza e ha permesso anche a me di accedere a notizie altrimenti inaccessibili con facilità, sta diventando molto simile alla televisione. Anche la televisione quando arrivò in Italia nel primo dopoguerra era un formidabile strumento tecnologico di alfabetizzazione della popolazione e ha permesso di fare grandi balsi in avanti. Nel momento in cui questo nuovo modello di informazione è diventato strumentale a quello che è la comunicazione di massa di basso livello, è diventato uno strumento per raccogliere denaro e quindi è diventata una televisione commerciale in mano a dei grandi attori, questa funzione di miglioramento, di diffusione delle istruzioni e delle informazioni a livello popolare è diventato veramente tutto il contrario, uno strumento di disinformazione e anche uno strumento di disalfabetizzazione. E' uno strumento anche di dipendenza psicologica. Noi abbiamo milioni di persone in Italia, non so quante nel mondo che passano, la giornata davanti alla tv è in qualche maniera uno strumento di ipnosi. Lo stesso sta accadendo con la rete. Noi oggi già, per esempio con uno strumento, un social network come Facebook che è diventato quasi monopolista almeno. Due biliardi e duecento milioni di persone. Capita, ecco, se io scrivo sulla mia pagina Facebook qualcosa che comunque può essere importante o racconto un qualcosa che sta accadendo all'interno del Parlamento Europeo che può trasformare la vita di milioni di persone, gli algoritmi di Facebook possono decidere se far viaggiare o meno questa notizia. Quindi quando si parla di algoritmi, di intelligenze artificiali e si parla del futuro dell'intelligenza artificiale bisogna dire che già oggi il nostro livello di informazione e le nostre scelte vengono, le nostre economie vengono influenzate dagli algoritmi che vengono detenuti da compagnie private, che non sono neanche europee. Quello che io ho anche chiesto in diverse sedi durante il mio mandato, almeno la mia, la nostra posizione è che l'Europa ha fatto un grandissimo errore, tra i tanti, quella di non dotarsi di strumenti di informazione in rete, di social network europei, che uno fosse in mano a un privato, con delle regole europee, dei cloud europei come hanno fatto i grandi attori mondiali. In Cina non c'è Google, hanno altro. In Russia non c'è Google, o meglio, c'è, ma esiste anche un qualcosa che sia legato a quella che è la cultura, l'identità di una popolazione. Beh, ma la domanda che ti fai è, questa è Europa che è una colonia degli Stati Uniti, poteva permettersi di fare questa cosa? Probabilmente no, se non è successo probabilmente no, però sto notando dei cambiamenti anche, io non so se sono diciamo delle dichiarazioni di tipo preelettorale, però anche da parte della cosiddetta, diciamo, cerchia ristretta dei commissari, delle istituzioni europee, sembrerebbe che ci sia una leggera inversione di tendenza, perché io ho assistito a dichiarazioni del commissario alla concorrenza, che ha affermato, va bene il libero mercato, ma noi come Europa dobbiamo anche ritornare a fare grandi investimenti pubblici per rimanere concorrenziali nel mondo globalizzato. Quindi dichiarazioni di questo tipo da parte di un commissario che è aderente al dogma del libero mercato lasciano pensare che forse possiamo sperare in una parziale retromarcia. Questo è tutto da vedere, però le dichiarazioni fatte al termine delle legislature lasciano comunque sempre il tempo che trovano. Io non sono molto ottimista, ma speriamo bene, anche perché questa gente finora, diciamo, si è messa al carro delle grandi multinazionali informative e non ha fatto sostanzialmente nulla. Il potere che ha in mano gli Stati Uniti è assoluto e fino ad ora non c'è, tra l'altro è assoluto anche sotto altri profili, nel senso che, per esempio, tu hai fatto un cenno all'intelligenza artificiale, in Europa non mi risulta, salvo qualcosa in Germania, che ci sia qualcuno che sta lavorando sui micro, micro, micro computer, diciamo, quelli del livello quantistici, esattamente, 5, 6 nanometri. Se lo facciamo questi, chi è che controllerà l'intelligenza artificiale, i sistemi di guida, diciamo, istantanei e automatici, la traduzione simultanea di tutte le lingue? Solo con quella potenza di calcolo lo puoi fare e noi non stiamo producendo niente del genere. No, l'Europa ha stanziato diversi miliardi nella programmazione Europa Digitale e nella Connecting Europe Facility per le infrastrutture digitali e per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della cyber security e anche delle tecnologie legate, della tecnologia a registro distribuito, più conomente note con nome blockchain, anche se poi comunque è una famiglia, quindi vi sono degli stanziamenti, sicuramente c'è grande ritardo perché noi abbiamo degli attori internazionali molto potenti come gli Stati Uniti e la Cina che anche in virtù del fatto che esistono in qualche maniera delle politiche pubbliche che se ne dica anche negli Stati Uniti, comunque poi lo Stato in qualche maniera interviene nello sviluppare le tecnologie, in Europa si è rimasti al palo per troppo tempo. Hai detto Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Giappone. Sì, anche. Però la Cina nella corsa dell'intelligenza artificiale al momento è probabilmente l'attore globale più avanti, più dinamico. La mancanza di sviluppare un modello europeo è uno dei grandissimi errori che è stato fatto negli scorsi anni. Cina e Russia, ahimè. Scusa, Europa e Russia, cioè sono sullo stesso piano. Anche la Russia ha perduto il treno, secondo me, perché non sta facendo quasi niente. E l'Europa, come dici, c'è qualche finanziamento, ma ci vuole altro che ci siamo a dei livelli che richiedono un cambio di marcia, letteralmente. Tra l'altro c'è una questione che secondo me viene in mente. L'intelligenza artificiale prende già decisioni per noi, con gli algoritmi. E questo avverrà sempre di più nel momento in cui noi demanderemo all'intelligenza artificiale le diagnosi delle nostre malattie, la gestione dell'energia, anche quella distribuita, tutta la logistica, le merci, i veicoli autonomi, anche la gestione delle notizie. E vi è un problema dove l'avanzamento tecnologico si comincia a andare tangente con un problema filosofico, è il problema dell'etica. Come inserire all'interno dell'intelligenza artificiale dei principi etici? Come creare quella che viene definita l'algoretica? Gli algoritmi etici e soprattutto quale etica? Perché l'essere umano non ha ancora sviluppato un'etica universale. E tantomeno è riuscito a infondere l'etica in tutti gli ordinamenti. Figuriamoci passarlo a un'intelligenza artificiale che tra l'altro essendo in grado di autoapprendere è stato dimostrato più volte che tende ad assumere, un po' come il figlio con il padre, tende comunque ad assumere i comportamenti di chi l'ha creata. E soprattutto quale tipo di etica? Perché l'etica di un cinese è diversa dall'etica di un tedesco, di un americano. Ma anche l'etica, la visione che si ha del giusto o dello sbagliato, è diversa tra un napoletano e un milanese. Quindi arrivare a... Fermo restando sempre che sia possibile inserire l'etica all'interno degli algoritmi. Quale tipo di etica? Visto che comunque l'intelligenza artificiale sono entità che possono lavorare su larga scala, perché sono comunque connesse a una rete globale. Dario, scusati, interrompo perché per questo ci vorrebbe una discussione ad hoc, diciamo così. Tra l'altro io appunto colgo l'occasione per dire, ricordi quel discorso che faceva a Casaleggio su Gaia, dove voteremo tutti, dove voteremo tutti copresi cinesi, sei miliardi di persone, la democrazia di tutti con un tastino, quello che dici tu è un'altra cosa, è un altro mondo. Quella era una visione totalmente sbagliata, totalmente illusoria, su cui milioni di persone, per la verità, che hanno votato 5 Stelle, si sono nutriti. Devo dire, sebbene fosse evidente che non aveva senso, perché non ci sarebbe mai stata una votazione con lo stesso criterio politico di 7 miliardi di persone. E invece quel disegno sembrava polemica un po' retrodattata. Beh, c'è comunque... Io credo che la partecipazione popolare e la democrazia diretta digitale possano funzionare solamente dopo che si sono ridotte le differenze di reddito, le differenze sociali. Quindi quella è la base per la partecipazione che libera dalle problematiche del mondo. Un altro mondo, giustamente, però io riassumo quello che penso io in questo caso, cioè l'intelligenza artificiale, se riuscirà ad avere un'etica, sarà quella di coloro che sono i padroni di questa intelligenza, cioè che l'hanno prodotta. Quindi noi andiamo velocemente verso l'intelligenza artificiale in un mondo in cui la divisione tra i ricchi e i poveri, per esempio, è tutta a vantaggio dei ricchi, che diventano sempre meno e sempre di più, diventano i poveri, e quindi l'etica di questa roba, che chiamiamo intelligenza artificiale, rischia di essere terribilmente dominata interamente dai dominatori di oggi. Quindi figuriamoci che mondo viene fuori. Ma questo discorso è un discorso che, semmai dopo la tua lezione, ci ritroviamo qui e lo facciamo. Sicuramente questo è un discorso che andrà portato avanti, perché in questa legislatura si creeranno le norme che ricorreranno all'intelligenza artificiale. Esatto. E' uno dei motivi per cui queste sono elezioni importanti, perché questi cinque anni si affrontano di questioni veramente cruciali per il futuro della democrazia e della dignità dell'uomo. Noi potremmo avere di fronte con lo sviluppo tecnologico ancora una volta un'età dell'oro. Come l'avremmo potuto avere con le gie fossili, che è stato quasi un regalo della storia al genere umano? Il genere umano poi l'ha utilizzato in una maniera del tutto suicida, senza avere la saggezza di pianificare un futuro. Ci troviamo di fronte a una sfida che è ancora più grande. Bene. L'ultima domanda che voglio fare come introduzione, è un discorso più ampio, perché siamo appena all'inizio, riguarda il 5G. Cioè, tutta questa ultima parte della nostra conversazione verte proprio su quello che sta avvenendo in uno dei settori chiave, perché il 5G modificherà tutta la vita dell'uomo. Cioè, il passaggio da Internet dei device, delle macchine, all'Internet delle cose, è un altro universo. Questo non so quanta gente se ne rende già conto, il pubblico non se ne rende conto minimamente, perché quei pochi che lo sanno pensano all'Internet del 5G come una trasmissione istantanea. Vabbè, posso scaricare un film in una frazione di secondo. Il resto è, secondo me, sfiora la follia, perché tu hai detto una cosa molto importante, poco fa, quando hai detto che sfioriamo i confini dell'etica. tutto quello che sta avvenendo, e per quello che voglio una tua valutazione, quello che sta avvenendo a livello dei micro-micro-processori, dei 5 nanometri, riguarda da vicino il funzionamento delle nostre cellule, e questo è già dimostrato. Quindi si aprono alcuni capitoli giganteschi, uno è la salute, perché noi, io, te e ciascuno di noi, siamo una comunità di svariati miliardi di cellule, che agiscono in comunità, perché se no moriamo. Quindi c'è un livello altissimo di cooperazione, di enormi comunità di individui. Vedete il punto. Noi adesso introduciamo un sistema che arriva direttamente nella struttura molecolare. Quindi vuol dire che noi apriamo un capitolo, altro che principio di precauzione, mamma mia, mamma mia, arriviamo a un capitolo dove, innanzitutto le cellule del nostro cervello, e le loro componenti epiteliali, dove avviene l'influenza delle vibrazioni, delle onde ad altissima frequenza, che succederà in questo contesto? Uno, dal punto di vista della natura dell'organismo umano, e aggiungo, della natura di tutto ciò che vive, perché noi siamo parte del vivente, poi ci sono gli alberi, gli animali, le piante, eccetera, eccetera. Tutto questo verrà modificato da questa cosa, cioè l'uomo crea un sistema di comunicazione che prima non c'era e che influisce direttamente sulla vita, sul nostro DNA. Questo è un punto. L'altro punto non è meno importante, perché noi agiamo sul funzionamento della coscienza umana, lo siamo vicini, siamo proprio sul confine, non è ancora definito in che forma. Quindi, la discussione su questi temi assume un valore epocale che non ha precedenti nella storia del vivente, cioè noi stiamo un po' uscendo, poi finisco di questa lunga riflessione, noi stiamo uscendo dalla naturalità, noi siamo il prodotto di una lunga evoluzione di millenni, tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che vive, è il prodotto del sviluppo naturale. I tempi erano quelli della natura, dell'ecosistema. Noi abbiamo introdotto un elemento nuovo che non c'era, che è fuori dall'ecosistema, che è fuori dal controllo dell'ecosistema, è come dire, hai parlato prima di scarti, questo è uno scarto sotto un certo profilo, non sappiamo che cosa produrrà. Quindi, in questo senso, io voglio capire il tuo punto di vista, perché prendere decisioni adesso, senza conoscere, neanche in linea generalissima, ciò che stiamo producendo diventa delittuoso. Quindi, uno dei primi problemi, una legge, io sarei per dire, come diceva Sertorio, bisogna che cominciamo a pensare in termini di che cosa è il progresso. Bisogna andare verso il progresso, se il progresso è questo, possiamo andare verso il progresso, tra virgolette, punto interrogativo. Domanda che faccio a te, ma che farei a chiunque altro. No, è una bellissima domanda e ti ringrazio per avermela posta, perché mi permette di esprimere anche alcune idee che mi sono formato questi anni, andando anche notizie di primo piano durante il mio mandato, sull'intelligenza artificiale, i veicoli autonomi, i 5G, il digitale, gli algoritmi, sono tutte cose, la stampa 3D di tessuti biologici, perché mettiamoci anche quello, questa cosa è estremamente collegata al rapporto tra la razza umana e la tecnologia. Cioè l'homo sapiens e l'avanzamento della tecnologia sono andate di pari passo. Quello è, il rapporto è inscindibile. Quello che sta differenziando quest'epoca, i secoli passati, ma sempre di più anche i decenni, i quinquenni, gli anni passati, è un'accelerazione. Le tecnologie hanno sempre trasformato la società umana, cioè la scoperta dell'agricoltura è stata la prima forma di tecnica che ha permesso la costruzione delle città. L'uomo ha sempre preso le tecnologie, prima o poi, salvo delle resistenze magari iniziali, tipo politico-economico, come salvifiche. Mai si è ragionato a sufficienza su quelli che sono i rovesci della medaglia. Un esempio è l'utilizzo del carbone nello sviluppo industriale. Grande innovazione, ma poi ha portato comunque all'inquinamento delle città. Uno più recente, la motorizzazione di massa. Bellissimo potrebbe avere ognuno lo proprio automobile per andare dove si vuole, che dava questa sensazione di libertà, tranne poi trovarsi le città congestionate. Allora lì bastava il calcolo di un geometra, non ci voleva un premio Nobel a prevedere che avremmo avuto dei problemi. Costruire una società sull'innovazione tecnologica senza pensare al rovescio della medaglia e cercare di lavorare e evitare che vi siano delle conseguenze dannose è stato sempre uno dei grandi errori. Tornare indietro, come oggi, eliminare la mobilità di massa diventa un problema quasi insormontabile. Nel momento in cui le tecnologie accelerano e sono sempre i cambiamenti che prima avvenivano nel corso di un secolo o di dieci anni o di cinque anni avvengono nel corso di uno o due anni comporta un problema di adattamento e di difficile valutazione di quelle che possono essere le conseguenze negative non previste. Quindi si sta perdendo, si è avuta poco in passato, ma oggi ci sarebbe bisogno di ancora maggiore saggezza perché la velocità è maggiore dell'avanzamento delle tecnologie e il loro impatto nella vita di ognuno di noi è sempre più grande. Invece si assiste a questa accettazione a critica di qualsiasi cosa ci venga comunque fornita. Ecco, si parla della velocità di scarico istantaneo oppure potremmo comunque vedere le immagini dei gattini in 3D, in ologramma, 8K. Il problema, quali sono le altre conseguenze? Se scopriamo che le mie tecnologie sono pericolose per la salute o pericolose per la nostra sicurezza del singolo delle comunità perché ci sono problemi di grande sicurezza a livello, diciamo, infrastrutturale dopo sono problemi. Tornare indietro diventa veramente difficile se non impossibile. sul discorso del 5G io personalmente ho una formazione di tipo medico. Quindi io ritengo che il principio di precauzione sia fondamentale. È una cosa centrale almeno della mia impostazione politica o anche comunque personale. Quindi prima di dare via a delle tecnologie che al momento di fatto sono in qualche maniera sperimentali credo che bisogna essere molto molto cauti. Noi non sappiamo ancora quali sono gli effetti reali dell'elettromagnetismo o delle tecnologie senza fili già esistenti. E credo che il 5G debba rimanere esclusivamente sperimentale e attendere i risultati di lungo periodo degli effetti sugli organismi viventi. Uomini, animali e piante comprese. E questa è una questione che riguarda il discorso medico o comunque sanitario. non sappiamo quel che è certo che sono tecnologie che spongono la società a rischi di controllo di tipo informatico e per esempio durante il processo di prelegislazione io ho lavorato sulla posizione del Parlamento Europeo dei veicoli autonomi che sarebbero una grandissima innovazione. Immaginiamo anche solamente a chi è portatore di handicap. Sarebbero un grande passo. Tutte le tecnologie per esempio per coloro che sono portatori di handicap potrebbero essere veramente riportare a nuova vita per mille motivi. Ha tutta la possibilità comunque di ridurre il parco circolante con lo sharing dei veicoli. Quello che io ho chiesto e in parte siamo riusciti a ottenere non so quanto rimarrà poi nei processi di gestire che l'uomo debba avere sempre il controllo perché immaginiamo un domani una flotta di veicoli completamente autonomi senza pedale e senza volante in mano a un'infrastruttura di tipo informatico a qualsiasi nemico interno o esterno a una nazione o un continente basterebbe il caso di dire un click o un virus per bloccare qualsiasi cosa quindi se non si potrebbe nemmeno scappare con la propria automobile hai toccato il discorso del militare queste industrie tutta questa struttura della tecnologia diventa suscettibile immediatamente di un uso militare cioè se tu puoi influire sulla mentalità di un'intera popolazione puoi influire anche sulla mentalità di un'altra popolazione e puoi anche mettere in discussione la stessa esistenza o l'esistenza fisica normale può diventare un'esistenza malata se tu sei a livello di incidere sui processi profondi del tuo organismo del tuo stesso essere e quindi anche sul filo della coscienza quindi le implicazioni sono gigantesche anche per l'aspetto militare e siccome viviamo in un mondo molto diseguale l'aspetto militare sarà il primo a essere sviluppato da detto non per niente gli americani sono ostili al 5G cinese perché capiscono che ha un'implicazione militare è evidente che ovunque cioè se ci pensi tra minuti capisci subito dove sta al pericolo è un'implicazione militare di possibile guerra guerreggiata ma più che altro attualmente esiste una guerra fredda di tipo informatico permanente è completamente fuori dai radar il cazzo di dirlo assolutamente ma è presente c'è una sorta di equilibrio tra intrusioni di tipo informatico nei sistemi delle varie potenze questa è una realtà innegabile io ho avuto modo di fare un viaggio in Silicon Valley dove chiaramente gli americani vedono i cinesi e i russi come dei nemici però mi hanno raccontato che ci sono diciamo possibili incursioni a livello della gestione delle centrali nucleari dei sistemi di distribuzione dell'acqua della logistica quindi mettere in mano delle infrastrutture informatiche di qualche controllo non è in mano pubblica o in mano di altre potenze io ritengo un passo falso aggiungo altre questioni riguardano sempre lo sviluppo tecnologico e il rapporto tra naturalità e artificialità e notizia insomma di qualche tempo fa che Elon Musk vuole sviluppare un'interfaccia uomo-macchina un'interfaccia neurale ci sono degli studi che puntano comunque diciamo alla lettura del pensiero stiamo parlando di fantascienza ma quello che abbiamo oggi vent'anni fa era fantascienza pura appunto e determinate tecnologie sono estremamente pericolose in mano a un controllo la Cina in questo momento ha già un controllo della propria popolazione basato sulle nuove tecnologie estremamente serrato non c'è più bisogno dell'informatore all'interno del palazzo sanno già tutto e una delle applicazioni dell'intelligenza artificiale per esempio in Cina che avviene già con i lavoratori ma questo può avere altri utilizzi è il diciamo il monitoraggio emozionale con l'analisi via telecamera dell'espressione del volto di un lavoratore si può valutare se l'operatore è stressato se è dissente o acconsente quali sono diciamo le proprie emozioni e questo si può poi estendere all'università a controllare gli studenti durante la lezione di un professore e quindi queste nuove tecnologie appunto possono diventare l'utile aprire l'era dell'oro per l'umanità in un'utopia positiva per la distribuzione del reddito per il controllo e la gestione equilibrata dalle risorse per risolvere una serie di problemi medici che altrimenti la medicina tradizionale forse non riuscirebbe a risolvere ma possono diventare un grandissimo e forse il definitivo controllo delle masse in tutti gli aspetti della propria vita privata e del proprio pensiero quello che io spesso dico di fronte a questa evoluzione dell'intelligenza artificiale agli stanziamenti europei sull'intelligenza artificiale ho fatto anche delle proposte che a fianco a quello che è lo sviluppo dell'intelligenza artificiale noi dovremmo e stiamo trascurando quello che è lo sviluppo dell'intelligenza naturale perché tutte queste tecnologie ci stanno rendendo meno reattivi meno in grado di fare un'analisi critica dei molti input che riceviamo e se l'uomo dovrà confrontarsi con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale avrà bisogno di più intelligenza non di meno intelligenza per poterla governare in maniera attiva sempre che ciò sia possibile e non si sta lavorando adeguatamente a livello mondiale a livello europeo e tantomeno a livello italiano su quella che è l'istituzione delle nuove generazioni che saranno coloro oltre a noi che dovranno comunque affrontare questi cambiamenti epocali se noi non lavoriamo sull'intelligenza naturale difficilmente riusciremo a gestire quello che è già in atto è esattamente quello che penso io io sono più pessimista di te probabilmente perché quello che sta avvenendo è esattamente il contrario cioè le classi dirigenti attuali che capiscono poco o nulla di tutto ciò si stanno orientando alla riduzione del potenziale intellettuale della gente noi assistiamo lo vediamo quotidianamente c'è milioni di persone che non sono in grado di capire una cosa elementare come un modulo per iscriversi a una qualunque associazione o non sono in grado di capire un articolo quindi noi siamo di fronte a un abbassamento del tenore intellettuale che viene perseguito in qualche misura ciecamente da una parte importante della classe dirigente dell'occidente in particolare che è quella che conosciamo non so altrove quindi questo è un enorme problema strategico comunque c'è una questione che riguarda diciamo la perdita di capacità critica da parte di langhi strati della popolazione questo è anche collegato con l'impavimento generale perché è dimostrato che tendenzialmente le persone e le famiglie a più alto reddito riescono comunque a dare ai propri figli un'istituzione migliore e questo è il più grande danno che possiamo fare ai nuove generazioni c'è non solo la disparità di reddito ma anche la disparità di opportunità date da una formazione più o meno adeguata ai tempi e c'è anche la questione della perdita del quotiente intellettivo da parte di pesticidi e polveri sottili ci sono studi che sono stati riportati all'interno del centro di ricerca del Parlamento Europeo quindi ero comunque presente dove si calcola sempre che ciò sia monetizzabile però da un'idea che l'effetto dei pesticidi sul quotiente intellettivo della generazione porta a un danno economico dell'1% del PIL europeo quindi quando si tratta di programmare politiche pubbliche magari dire basta con i pesticidi e molti rispondono ma poi l'economia come fa bisogna ragionare sul lungo periodo e poi vedere quali sono poi sempre che il discorso dell'evoluzione economica abbia un senso di fronte alla malattia dell'uomo o alla morte degli esseri umani bisogna vedere poi qual è il vantaggio economico sul breve e sul lungo periodo l'1% del PIL europeo è una cifra veramente enorme ma fermostando il problema etico di levare l'intelligenza alle nuove generazioni sarà non un digital divide ma un intellectual divide in realtà in effetti forse bisogna uscire dalla mappa del denaro per valutare queste cose perché dal punto di vista etico è molto più importante che un uomo diventi stupido che non perdere lo 0,02% del prodotto interno questa è la vera questione che abbiamo di fronte e poi comunque possiamo dedicare questo mi piacerebbe farlo con te e magari anche con altri una discussione sul transumanesimo perché noi stiamo parlando con un certo atteggiamento critico per fortuna io e te però c'è gente che invece plaude a questa soluzione cioè di un superamento dell'intelligenza umana intanto come scrive Kurzweil chi se ne frega in fondo questa roba qui è il prodotto dell'intelligenza umana quindi è un prolungamento dell'intelligenza umana che vuoi impedirlo? che vuoi impedirlo? sì si può anche decidere di lasciarlo andare avanti così com'è solo che c'è un piccolo problema che tutto il nostro sistema di valori è un altro e che quindi tutto il discorso democrazia partecipazione uomo cosciente uomo solidale tutto ciò che abbiamo costruito nel corso di una cinquantina di secoli deve essere abbandonato in queste condizioni non ci può più essere né democrazia né eguaglianza tra gli uomini né rispetto dei diritti vinceranno i più forti sarà il mondo terribile di Aldous Huxley the new brave world il nuovo mondo e questa è la frontiera sulla quale ci troviamo mi pare di capire beh ripeto il fatto di stare nelle istituzioni dove si programmano direttive regolamenti per i prossimi 5 10 20 anni ti dà la possibilità di accedere a tutta una serie di notizie anche di settori diversi e di riuscire poi a fare la quadra per una visione sistemica la legislatura che verrà sarà fondamentale per il futuro dell'Europa e per provare almeno a regolamentare i termini dei settori nella giusta direzione so che è un'impresa titanica riuscire a cambiare una tendenza che è di tipo globale però credo che valga la pena provarci va bene grazie Dario e arrivederci allora dopo le lezioni per continuare a stare passione auguri grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti